La medicina dello sport è l'area della medicina che si occupa della prevenzione e cura delle patologie correlate all'attività sportiva. È una disciplina nata recentemente nel secolo scorso, con la consapevolezza dei rischi sull'assenza di attività fisica, ma anche sulle patologie che possono nascere e causa il metodo scorretto di affrontare uno sport. La medicina dello sport vigila anche sulle pratiche sportive vietate, quali il doping, ma anche sull'educazione dei giovani e meno giovani sui benefici che apporta una regolare e corretta attività fisica. Il medico dello sport può lavorare in strutture pubbliche o come libero professionista, ma anche partecipare come ufficiale tecnico per eventi sportivi o per l'ammissione a gare come maratone, ciclismo e altre. Per esercitare ha in possesso la laurea in medicina e chirurgia, la specializzazione in medicina dello sport, ed è iscritto all'ordine dei medici con superamento dell'esame di stato per l'abilitazione. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. È consono rivolgersi a un medico dello sport per avere un consulto su l'attività fisica più appropriata per il proprio figlio. Valutare se la condizione fisica di un paziente è idonea per svolgere un determinato sport. Se si ha bisogno di un certificato di idoneità per una pratica sportiva. Consigli anche sull'alimentazione da seguire. Come prevenire eventuali malattie o disturbi. Affrontare malattie croniche che possono trarre beneficio da sessioni di sport-terapia. Tutti i casi di infortunio. I sintomi che possono indurre il paziente a consultare il proprio medico di medicina generale per valutare una visita specialistica presso un medico dello sport sono dolori dopo attività sportiva, acufene, emicrania, cervicale, sciatica, ipertensione, allucevalgo, vertigini. Qualsiasi difficoltà per cui ci si renda conto che uno sport non viene svolto con le stesse capacità. Stai cercando il medico dello sport specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link Su YouTube clicca sulla campanellina Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo Questa è un'idea di UMA Innovation Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto Vai su uno dei nostri siti Buona giornata